Salve a tutti e benvenuti su OlipizTV, olforio tanto prima o poi viene a bohretto su OlipizTV andiamo a un'altra piccola canzucina da titolo Carnevale 1, 2, 3 Si festeggiava in maschera fino a poco tempo fa il Carnevale adesso ci tocca portarla tutti i giorni e non è proprio uguale eravamo liberi ma liberi e tutto ciò non apprezzavamo adesso che si è persa tutti sperano di poter finalmente abbandonare il proprio divano poi se ci mettiamo gli scienziati e i famosi soloni allora siamo al completo sicuramente non ne verremmo fuori ci vuole tanta ma tanta buona volontà e qualcuno che parli chiaro dicendo a tutti finalmente la verità si festeggiava in maschera fino a poco tempo fa il Carnevale adesso ci tocca portarla tutti i giorni e non è proprio uguale eravamo liberi ma liberi e tutto ciò non apprezzavamo adesso che si è persa tutti sperano di poter finalmente abbandonare il proprio divano poi se ci mettiamo gli scienziati e i famosi soloni allora siamo al completo e sicuramente non ne verremmo fuori all'epizzo del volfo rio tanto prima o poi viene pure tu pari ciao ma restate ferma quando mai cavalloni gigante per tutti quanti con questo vi saluto e vi rimando alla prossima e come sempre all'epizzo del volfo rio tanto prima o poi viene pure tu arrivederci grazie Grazie a tutti